Stiamo realizzando tutta una serie di ulteriori controlli, naturalmente io parlo di quello che fa l'intelligence, non di quello che fa il governo e su quello ci confronteremo in aula. Abbiamo per fortuna un decreto legge che è arrivato tardivo sull'antiterrorismo e che deve essere implementato per quanto riguarda le misure e gli strumenti a disposizione sia a Monte, quindi parliamo di intelligence, che a Valle per quanto riguarda le forze dell'ordine. Non sono sufficienti i militari messi nelle strade, non sono sufficienti gli annunci di nuove assunzioni tra l'altro dei contingenti limitati nelle forze dell'ordine. Serve fare come ad esempio hanno fatto i francesi oggi che hanno messo in pista risorse per assumere 2600 persone solo nel mondo dell'intelligence e questo vuol dire dare un segnale chiaro, una risposta chiara. Servono strumenti che permettono di allontanare dal nostro paese persone in modo agile, in modo diretto, in modo molto veloce, persone che rappresentano un problema. Soprattutto servono strumenti, e lo dico da esponente della Lega, che impediscano che nel nostro paese da oggi in poi possano arrivare, soprattutto dalle coste libiche, dei soggetti di cui magari non conosciamo bene il passato, perché ne arrivano in quantità così elevata che diventa impossibile conoscere che abbiamo di fronte. Cosa sarebbe opportuno fare? Ce n'è già parlato. Lo schieramento di navi che noi abbiamo, come comunità internazionale, dovrebbe essere portato come prima cosa a tutela delle coste, cioè a mettere in sicurezza le coste da Libia per impedire che partano nuove barche, nuove navi. Noi sappiamo anche, e anche questo è stato riportato sui media, che esistono tante navi che sono state rubate in Egitto, piuttosto che in Tunisia, piuttosto che in Algeria, che sono alla fonda davanti alle coste libiche. Quelle navi non possono rimanere lì. Sono navi, sono degli strumenti che naturalmente vogliono utilizzare per portare tante persone in Europa. E tra quelle tante persone ci potrebbero essere anche dei soggetti problematici. Quindi quelle navi vanno assolutamente tolte di mezzo. Va fatto un intervento che, iniziando dalle coste, porti a, mi passi il termine un po' forte, a bonificare quella situazione legata naturalmente alla presenza di terroristi del DASH, che oggi rappresenta il più grosso problema che ha la comunità internazionale, soprattutto che ha il nostro Paese. Grazie.